E' passato molto tempo da che non si vedono in giro le candelore, oggi si fanno delle prove, la candelora dei pesci vendoli, il desiderio è quello di tornare in strada? Sì, lo stiamo sperando, siamo qui, ci stiamo provando, stiamo facendo delle prove con la speranza che arrivasse un nuovo cambiamento visto che le festività sono sospesse. Voi avete riflettuto sul fatto che comunque a Palermo si è festeggiata Santa Rosalia, si vorrebbe lo stesso in agosto per Sant'Agata, perlomeno facendo uscire le candelore, come fareste? Ma come fedele, è una cosa bella vedere anche a Palermo festeggiare Santa Rosalia, perché a Treuna Santa siamo tutti i Devo dei Santi. Lo speriamo pure noi qua a Catania di poter gioire la nostra adovazione a Sant'Agata. La curia, la Chiesa è propensa. La Chiesa vi vuole far uscire oppure no? Ma momentaneamente non abbiamo avuto nessuna risposta, stiamo cercando di avere una risposta nella Chiesa. Nella Prefettura invece avete avuto qualche segnale positivo? Ma guarda, tramite il Comune il Prefetto credo che sia d'accordo con noi, però non dipende da lui, dipende dalla Chiesa.